Hai mai pensato a quali sono le cose che le persone ricorderanno del tuo matrimonio? Noteranno quanto è bella la sposa, se hanno mangiato bene e se si sono divertiti. La scelta è solo vostra. Puoi pensare di ridurre drasticamente tutte le spese, penalizzando la qualità. Fare tutto da soli, senza poter riconoscere fregature e falsi professionisti. Fare un matrimonio uguale a tanti altri. Perché non hai grandi pretese. O forse perché non hai mai avuto l'occasione di valutarne altre. Sarai sicuramente d'accordo con me che sarebbe più bello un matrimonio che ti assomiglia davvero. Un matrimonio semplice, senza troppi fronzoli, ma che arrivi dritto al cuore. In cui i tuoi invitati si sentiranno a casa, ma in un contesto indimenticabile. E soprattutto, un matrimonio dove non ci saranno tempi sbagliati, pause infinite e ospiti annoiati. Dal 2013 ad oggi, Sposami Oggi, leader in espansione nell'organizzazione di eventi, ha realizzato i sogni delle tantissime coppie che si sono affidate ai nostri servizi di alta qualità e professionalità. Alla base dell'offerta di Sposami Oggi ci sono dettagli speciali. I fiori, sempre freschi e solo di prima qualità, studiati a tavolino dietro un serio progetto di Flower Design. La grafica, molto spesso disegnata e creata ad hoc, sulla base dei gusti, del tema e dei colori scelti dagli sposi. I confetti, deliziose praline del Museo del Confetto e vincitori del primo premio Gambero Rosso e riconosciute come Presidio Slow Food. La prima e più importante scelta che puoi fare è scegliere un servizio completo ed un team vincente, perché senza questo tutto può essere compromesso. Il fulcro del nostro successo è dovuto alla scelta di curare i minimi particolari e alla capacità di risolvere immediatamente eventuali imprevisti. Un successo coronato dalla pubblicazione dei nostri allestimenti all'interno di Wedding Wonderland, il sito dedicato ai matrimoni di tendenza più in voga del momento, e da Zenkyu, che ha riconosciuto il blog di Sposami Oggi come uno dei dieci blog di matrimoni più belli d'Italia. Grazie a tutti.